Ciao amici! Oggi al mio rientro alla scuola ho trovato una sorpresa inaspettata qui a casa. Andiamo subito a vedere cos'è. Leggiamo la lettera! Gentilissima Sofia del Baldo, l'invio e riconoscimento che le è stato assegnato nella terza edizione del premio internazionale di poesia Rosario Angelo Livatino per la musica e il diploma personalizzato con la motivazione. Wow ragazzi! Andiamo subito a vedere, sono super curiosa. Mettiamo via la lettera. Questa è la motivazione, ma andiamo a vedere subito il premio. Wow! Guardate che bello! È stupendo! Mettiamolo qui. Sezione riconoscimenti internazionali per la musica conferito a Sofia del Baldo, youtuber e cantante. Motivazione! A Sofia del Baldo, giovane youtuber e cantante, diventata famosa sul web per le sue cover, dove ha totalizzato oltre 70 milioni di visualizzazioni. Viene premiata per essersi posta all'attenzione sia dei giovani che degli adulti per la sua bravura e anche per l'interpretazione del brano Servire il mondo. Scritto per ricordare l'esempio e il coraggio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e tutte le vittime di mafia, a 30 anni dalle stragi che hanno cambiato la storia del nostro paese. Amici, vi ricordate Servire il mondo? Il brano col videoclip che ha girato a Palermo nei luoghi simbolo delle vittime della mafia come Falcone e Borsellino? Ecco, questo premio è proprio per questa canzone. Proprio per i 30 anni delle stragi che hanno cambiato la storia del nostro paese. Infatti, pochi giorni fa, il 21 marzo, è stata la giornata nazionale della memoria e dell'impegno delle vittime per la mafia. E questo premio è proprio dedicato a questo. Ragazzi, sono super onorata. Per questo voglio ringraziare il poeta e scrittore Rosario Lagreca, nonché presidente della giuria, di questo prestigioso premio internazionale. E adesso vado a mettermi questo bellissimo premio in camera. Ciao!